c'è 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 eh come deve essere dura la vita in certi momenti anche barella ha rinnovato vivendo pure barella vivendo pure barella smantellamento amici bianco rosso neri state rosicando il rosicamento è ormai non è alle stelle è in un'altra supernova un'altra galassia capito mi smantellano la squadra e vi vendono prima barella ma l'avete capito che avete fatto la figura dei deficienti sì o non l'avete capito sì che poi va oltre fare qualche spicciolo su youtube se siete pronti a fare la figura degli dei deficienti se perdete la faccia per 10 euro sono fatti sono fatti vostri io non la perdo la faccia per per una monetizzazione dovete ancora continuare a fare video contro l'inter fallimenti cessioni se intanto ha firmato anche barella tu sei andato scappato di casa avete fatto come dice il benzina ho tutto quel viaggio per prendere cinque bustoni dalla roma almeno fosse stata una squadra estera di cichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich guardate ditegli una volta solo a Tenai a Napoli lui vi molla il giorno stesso che ti faccio brutto i napoletani peggiori in assoluto i peggiori in assoluto come tifo sto parlando una partita li sollevano e una partita Tenai a Napoli mamma mia